Grazie a tutti. La gente contenta, lo aspettavamo. Vicenza un passo dalla Serie B, soddisfatto il direttore generale Bedin. Ora l'ultima parola al Consiglio federale. Buonasera, benvenuti al TG Vicenza. Apriamo il nostro telegiornale con i dati sull'emergenza coronavirus che ci arrivano dall'Ulss 8 Berica che ci dice che non si registrano nuovi decessi e i numeri mostrano un trend sempre in discesa. Continua l'attività dei tamponi, 900 quelli fatti nella sola giornata di ieri. 300 invece i test sierologici. Continuano a scendere i ricoverati nei vari ospedali del territorio di competenza. 50 in tutto alla data di ieri. E ora cambiamo argomento, andiamo a vedere il problema della sicurezza a Vicenza. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Francesco Rucco. Sicurezza a Vicenza. Dalla ventenne, molestata in pieno centro da un tunisino inseguito dai commercianti e risultato poi positivo all'HIV, al pakistano insanguinato in Campomarzo che si scaglia su un pensionato. La città semivuota, causa coronavirus e forze dell'ordine impegnate più a far rispettare decreti e ordinanze sembra aver lasciato campo libero ad un'umanità rissosa e aggressiva. Gente ai margini che vive di espedienti e dello spaccio di droga. Come ci segnala anche Jamil, ristoratore pakistano di Dia Verdi, che ha una vera e propria collezione di foto e video di come davanti al suo ristorante vivono e spacciano all'ombra della sera, ma anche di giorno, gruppi di immigrati. Un giorno è arrivato, tutta la gente è qua a vendere droga. Un in venti minuti arriva uno cliente, qualcuno ha mascherine, qualcuno no. Però quando loro cominciano a fare droghe, bere, cominciano, ma non c'è anche mascherine. Loro piove, con sole, c'è proprio loro attività davanti da me. Una vera e propria base, quella del parcheggio di Via Verdi con un via vai continuo di clienti, di immigrati pronti a saltare in sella della propria bici alla vista delle forze dell'ordine per far perdere le proprie tracce. A poco è servita la petizione con 350 firme raccolte. Loro sono ancora lì, multati oggi magari perché senza mascherina, ma libri di continuare nella loro attività. Gli ultimi episodi accaduti sono stati allarmanti e al vertice sulla sicurezza, il sindaco Rucco ha chiesto precisi interventi. Abbiamo chiesto per la città di Vicenza maggiori controlli sul territorio. Vogliamo che i nostri concittadini, nella fase 2 di ripartenza, possano frequentare le vie cittadine, sia del centro che dei quartieri, in assoluta sicurezza. Contrastare i fenomeni di degrado, su questo lavoreremo come polizia locale con l'aiuto delle forze dell'ordine. Parliamo delle riaperture perché il Veneto è pronto a ripartire. Zaya chiede che il governo lasci alle regioni stilare un piano. Noi siamo stati sempre per la leale collaborazione, però è indubbio che i tempi di attesa si stanno troppo dilatando, è indubbio che non possiamo più attendere e chiediamo, o quantomeno io in particolar modo chiedo, che il governo produca un provvedimento che potrebbe essere tranquillamente un DPCM nel quale si dice che si autorizzano le regioni ad aprire sulla base di un piano che vogliamo vedere. Insomma, lasciateci lavorare ed aprire. Il primo giugno è una data che rischia di uccidere le attività economiche, quelle attività che in questi giorni, con flash mob e consegne delle chiavi ai primi cittadini, hanno fatto sentire la loro voce. È difficile spiegare che un'azienda con mille dipendenti può aprire e sta lavorando da settimane e un negoziante che vende magliette in 40 metri quadri non può aprire. E va oltre il governatore del Veneto, difendendo le molte attività che oggi sono ancora chiuse e navigano tra mille difficoltà. Anche dal punto di vista epidemiologico, io vorrei anche delle spiegazioni rispetto a questo. A meno che non si consideri che il rischio da correre lo si è corso perché alcune attività vengono considerate più strategiche di altre. Ma secondo me hanno dignità uguale a quello che ha mille dipendenti come quello che lavora con le sue mani, punto e basta. Adesso vedere bistrattati gli artigiani, i negozianti, non lo trovo giusto. Questo dico. Il governo se c'è batta un colpo. E parliamo proprio di commercianti perché è nata a Vicenza una nuova associazione. Tutti senza certezze, abbandonati. Quale folle imprenditore può riaprire in queste condizioni? Con queste regole il fallimento è assicurato. Queste sono tutte le nuvolette che ci compaiono di notte quando dormiamo in questi giorni. Sono tutte le nostre preoccupazioni, sono tutti i nostri pensieri. Gli incubi dei commercianti nella fase che dovrebbe essere di ripresa, ma che al momento ripresa non è. E soprattutto non fa sperare niente di buono in futuro. 200 esercizi commerciali si sono associati a una nuova realtà. Guia, gestori uniti e indipendenti, per cercare di contare di più, di far arrivare a chi di dovere l'urlo di disperazione di chi teme seriamente di chiudere l'attività per sempre. I provvedimenti sanitari, pur necessari, vanno calibrati sulle dimensioni dei singoli esercizi, denunciano. E soprattutto... Ci taglino le tasse. Oggi non abbiamo liquidità. Se non abbiamo liquidità per lavorare, come pensiamo di poterle pagare se ce le spostate? Abbiamo bisogno di tagli delle bollette. Abbiamo bisogno di regolamentazioni chiare e decise per l'igienizzazione e la sanificazione, che in una paventata possibilità, che il 18 maggio noi riapriamo, in che modo? Non possono liquidare tutto con un articolo e un decreto legge. Cioè, devono venire a parlarci, devono uscire dal Parlamento e venire da noi. Ce le abbiamo già le soluzioni. Massima sicurezza. Il cliente, le persone vogliono uscire di casa, vogliono venire qui, aprire per chi? I musei sono chiusi, le scuole sono chiuse. Per chi riapriamo? Per pagare le tasse? Ma come possiamo pagare le tasse? E una notizia che ha reso felici moltissimi fedeli è quella della riapertura delle chiese al culto, a partire dal 18 maggio. Io sono contento. Avrei voluto farlo anche prima per conto mio. Comunque va bene. Ma lei prenderà, andrà a fare la comunione? Anche se magari il parroco è con i guanti, deve igienizzare, le mani. Va bene, vado sì. Se devo andare a comunione, vado a fare la comunione. Beh, era ora. Era giusto che fosse così. Quindi se adesso hanno deciso che si può, io mi rimetto assolutamente al gruppo della sanità. Finalmente si può ritornare a celebrare la messa. Io ne ho sentito la mancanza, sinceramente. Ne ho sentito veramente la mancanza. Un ritorno alle celebrazioni con i fedeli e all'eucaristia atteso dalla gente. L'accordo CEI, governo che riporta dal 18 maggio i fedeli sui banchi delle chiese, ha strappato un protocollo con qualche concessione. Per esempio, non occorrerà sanificare la casa del Signore, ma sarà sufficiente una curata e igienizzazione. Non sarà necessario misurare la febbre con i termoscanner, ma gli ingressi saranno contingentati in base alla capacità della chiesa e parroci con guanti e mascherina per la comunione. Da sciogliere ancora alcuni nodi, come le modalità di distribuzione dell'eucaristia e poi, che fare con i guanti che hanno toccato quella che per i fedeli è il corpo di Cristo? Ci sono ancora una decina di giorni per la prima messa feriale e 15 per la prima festiva. Tempo per trovare le soluzioni adatte, non solo pratiche, ma anche spirituali. Mi affido molto al Signore, quindi no, non ho timore. Non ho timore, mi sono sempre affidato a lui. Coronavirus, Banca del Plasma, donazioni di sangue, ne ha parlato il presidente di FIDAS Vicenza, ospite del nostro direttore Luigi Baccialli, via Skype, naturalmente a Focus. Noi donatori siamo persone che di solito due, tre, quattro volte all'anno si raccontano i centri di raccolta per la donazione di sangue. Quindi potremmo essere dei potenziali persone che sotto un attento screening possono avere anche le patente di immunità sul Covid. Cosa voglio dire? Se durante la donazione di sangue viene prelevata una provetta in più, analizzata, noi potremmo come donatori di sangue anche entrare in quei parametri di studio sulla popolazione che ha anticorpi del Covid. Il donatore deve donare il meglio di se stesso in condizioni di massima sicurezza. C'è stato un momento molto critico, onestamente. Poi ci sono stati vari appelli, sia del nostro presidente Zai, ma anche del dottor Borrelli, di protezione civile, di donare sangue. La cosa meravigliosa che è successa in questa quarantena, che non è più quarantena, ormai siamo quasi 60 giorni, quindi stiamo superando anche i muri della quarantena, è che abbiamo ricevuto tantissime chiamate da persone che non erano donatori e lo volevano diventare. Parliamo delle cosiddette scarcerazioni facili, una durissima presa di posizione da parte della Lega. Rischio di contrarre il coronavirus dietro le sbarre. È così che esponenti di primo piano di clan della Camorra, piuttosto che personaggi implicati in inchieste sul traffico internazionale di stupefacenti o ancora soggetti legati a cosche dell'Andrangheta, sono usciti dal carcere per continuare a scontare la condanna agli arresti domiciliari. Sei quelli che sono usciti nelle scorse ore dal carcere di Vicenza del Papa, a San Pio X, farebbero peraltro parte di una lista comprendente altri 376 nominativi. Dura a riguardo alla posizione della Lega che chiede al Presidente della Repubblica di intervenire e alla politica di aiutare i lavoratori e imprese. È un segnale gravissimo, noi ci appelliamo anche al Presidente della Repubblica perché intervenga, perché mettere di fatto in libertà queste persone che hanno compiuto, sono indagati per reati molto, molto gravi, è un pericolo non solo per la cittadinanza ma per tutto il sistema. Mi appello al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, perché tornino sui propri passi, riportino in carcere queste persone e si occupino effettivamente di artigiani, commercianti e partite IVA. Adesso andiamo a vedere la cronaca. Altavilla Vicentina, bimba di tre anni giocando, rimane incastrata con la testa tra le inferiate della finestra. A liberarla arrivano i vigili del fuoco che tagliando un pezzo della grata sono riusciti a liberarle la testa facendola uscire senza ferirsi per la piccola solo tanta paura. Montecchio Maggiore, dichiarato dal Tribunale il fallimento della AutoCave, concessionaria di auto al centro di una truffa da oltre un milione di euro che usava come specchietto per le allodole auto di lusso a prezzi, diciamo così, competitivi. decine i clienti che avevano versato caparre e saldi per l'acquisto di macchine di lusso. Si aggrava la posizione della banda con il fallimento e la truffa diventa una bancarotta fraudolenta aggravata per distrazione. Trissino, la natura si prende i suoi spazi, peccato però che questa volta fa danni. Invasione di cinghiali in zona Montefaldo e a Selva, zona di coltivazione di patate pregiate. Gli animali praticamente hanno devastato i campi, esasperati i coltivatori. L'ultima incursione è avvenuta fra Selva e Nogarole. Allora parliamo di sport perché il Vicenzo ormai è a un passo dalla promozione in Serie B. Vediamo cosa è successo. è con grande soddisfazione che devo dire che abbiamo constatato un fronte larghissimo anche qui quasi unanime a favore della promozione diretta delle prime tre in classifica quindi noi, il Monza e la Regina e questo ci fa piacere è l'affermazione del principio del merito sportivo più volte ricordato dal UEFA e anche dal presidente Gravina. La soddisfazione da un lato ma anche l'equilibrio e la razionalità dall'altro di sapere che questo è solo un primo passo è una proposta che la Lega Pro che non ha competenza in materia di blocco o promozioni delle squadre fa alla federazione all'organo unico decisionale che è il Consiglio federale e quindi aspettiamo le risultanze del Consiglio federale fiduciosi. E vi ricordiamo che questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà ospiti in studio alle 21 e 15 Elena Laraocca Giovanni Battista Mestriner Ivan Palasgo Giacomo Possamai e Antonella Tocchetto per questa sera da Vicenza è tutto vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo. Benvenuti al meteo anticiclone ancora presente sull'Italia bel tempo dunque solo con qualche occasionale disturbo il dettaglio di sabato 9 maggio sul Veneto tempo in prevalenza stabile sarà infatti ampiamente soleggiato il cielo vedete si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso tuttavia non si escludono degli isolati acquazzoni sui settori montuosi temperature minime fino a 14 15 gradi valori massimi compresi invece tra i 22 e i 26 gradi e sarà una bella giornata di sole anche a Vicenza in città ma anche in provincia avremo un tempo asciutto senza precipitazioni anche qui il cielo sarà sereno con poche nubi a carattere sparso infine clima caldo con temperature massime fino a 26 gradi dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti